ciao stai organizzando la tua festa di compleanno e vuoi stupire tutti gli invitati proponendo un vino che reinterpreti in maniera unica il territorio piemontese perfetto ti presento la lus alba rossa piemonte doc di banfi è prodotto con uve 100 per cento alba rossa questo vitigno è stato ottenuto nel 1938 da giovanni dal masso il quale ha incrociato barbera e nebbiolo nel tentativo di fondere in un'unica varietà le caratteristiche e le qualità dei principali vitigni piemontesi e giovanni dal masso è uno dei principali padri dell'ampelografia in italia ha redatto ha steso molti disciplinari per i vini doc e di ocg questo vino è prodotto con uve che fermentano in acciaio per esaltarne i profumi fruttati dopodiché si procede con un invecchiamento di 12 mesi in botti in barrique di rovere francese per circa l'ottanta per cento del mosto mentre la restante parte il restante 20 per cento rimane a riposare in acciaio trascorsi questi 12 mesi il vino viene assemblato in bottiglia e affina ancora per altri 6 8 mesi in bottiglia prima di essere commercializzato per ottenere così un vino dal colore rosso rubino vivace con profumi fruttati accompagnati da sentori di vaniglia e di liquirizia che derivano appunto dalla permanenza in botte ha una struttura morbida e vellutata è ideale per il lungo invecchiamento e quindi rappresenta pieno i caratteri tipici del piemonte rivisitati in una chiave moderna e di grande impatto è ideale in abbinamento ad antipasti saporiti come per esempio il prosciutto stagionato o i crostini di patè di fegato è ottimo anche con primi piatti a base di ragù come le classiche lasagne al forno o i ravioli del pin oppure con secondi di carne in umido come per esempio il coniglio in umido o lo spezzatino di manzo o i classici si bucchi alla milanese se sei curioso di assaggiarlo e vuoi riceverlo comodamente a casa tua clicca sul bottone acquista e sarai pronto per trascorrere un meraviglioso compleanno all'insegna dei vini del piemonte grazie ciao